Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi video dedicato a un mega unboxing di Natura Si. Mi hanno contattato perché io sono una loro cliente da un po' di tempo, ho anche la tessera, e mi hanno informata che lo shop online era attivo, quindi mi hanno chiesto se ero interessata ad alcuni prodotti. E io sì, ero interessata perché comunque ultimamente fare la spesa online non è proprio facilissimo, quindi nel momento in cui mi contatta qualcuno e mi dice che è possibile acquistare generi alimentari e farseli consegnare a casa, ovviamente è una cosa che mi interessa. Quindi adesso volevo condividere con voi tutti i prodotti che mi sono arrivati. Il primo è questo pacco di orecchiette integrali della marca La Terra e il Cielo, sono buonissime, le avevo già mangiate in passato, poi io adoro le orecchiette, se sono integrali ancora di più, quindi questo è un prodotto che sicuramente andrò ad utilizzare a breve. Poi due pacchi di tortiglioni integrali, questi ultimamente stavo facendo molta fatica a trovarli e per fortuna li ho trovati sul sito di Natura Si. Poi un pacco di pasta che io di solito utilizzo per la minestra, è questo formato qui, un pochino più piccola ma non troppo, nel senso che a me la pastina proprio piccola piccola non mi piace. Preferisco questa di formato medio, diciamo così. Poi una confezione di gnocchi di patate biologici della marca Fior di Loto, spero che riusciate a vederli, ve li faccio vedere magari così di lato, comunque è una marca questa che io ho preso spesso ed è buonissima. Poi due tavolette di cioccolato fondente della marca Ecor, questo è il cioccolato al 72%, quindi è veramente ottimo, io adoro il cioccolato così tanto fondente, mi fa proprio piacere anche dopo cena, dopo pranzo, insomma è un tipo di cioccolato che apprezzo. Poi una confezione da mezzo litro di passata di pomodoro, questa è anche una marca che ho già utilizzato, che ho già comprato e mi sono trovata bene. E poi una confezione di filetti di tonno al naturale, a me piace tantissimo il tonno al naturale e mi piace molto poco quello in olio d'oliva, quindi di solito vado sempre a scegliere prodotti che siano al naturale, che comunque non abbiano aggiunta di olio, soprattutto poi se si tratta di olio in scatola è ancora peggio. Poi una zuppa di porri e patate, a me piace tantissimo questa combinazione, mi piace la vellutata, soprattutto non ho mai provato la zuppa, però ero curiosa. Poi una confezione di grissini semi integrali con olio d'oliva della marca La Buona Terra, questi sono buonissimi, li ho già presi altre volte, devo dire che sono veramente sfiziosi e gustosi. Poi una confezione di crostatine di mirtilli, queste io le mangio molto spesso a colazione, poi magari le alterno con le brioche, con le fette biscottate, però sono comunque prodotti da colazione per quanto mi riguarda. Poi una confezione di grissini integrali ai cereali con sesamo e soia, anche questi li ho presi come accompagnamento ad una pietanza, o comunque magari intanto che si attende di cenare o di pranzare, un paio di grissini sperza fame, ci stanno sempre bene. Poi una confezione di brioche integrali con lievito madre, queste hanno un aspetto delizioso, non so se riuscite a vederle, comunque anche queste per la colazione sono assolutamente perfette, le ho prese vuote in modo da poterci mettere la marmellata all'interno. Poi di nuovo un pacco di brioche integrali sempre con lievito madre, ne ho preso due confezioni diverse per provare le due versioni, ma anche perché sono cose che comunque hanno una lunga scadenza e poi io mangio a colazione, quindi me le metto nella credenza, mi faccio un minimo di scorta, soprattutto in questo periodo che fare la spesa è un po' complicato. Inoltre queste sono confezionate singolarmente, quindi la freschezza ovviamente viene mantenuta meglio. Questi sono tutti i miei prodotti Natura Si, come vedete ce ne sono un bel po', tutti molto gustosi e sfiziosi. Fatemi sapere nei commenti se anche voi ultimamente state acquistando la Natura Si con la modalità online, che sono sempre curiosa di sapere un po' come ve la state cavando in questo momento per i vostri acquisti. Io vi invito come sempre ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.